Short 005. Fonti del diritto, ordinanze contingibili ed urgenti. Quando parliamo delle fonti del diritto abbiamo visto le relazioni che ci sono fra le varie fonti, cronologico, gerarchico. Ci sono però delle fonti particolari che rispondono a un'esigenza che è tipica dell'ordinamento giuridico, quella dell'impossibilità per il legislatore di prevedere tutti i casi. E qualora si verifichi un'emergenza, un fatto eccezionale, non è possibile neanche attendere l'emanazione di un decreto legge, che è il provvedimento d'urgenza che si adotta per disciplinare certi fenomeni. Occorre intervenire tempestivamente. È successo con il Covid, succede con i terremoti, succede con le alluvioni. Allora con quale strumento si interviene? Con le ordinanze contingibili ed urgenti, che sono atti a contenuto atipico, cioè non predeterminato, come sono invece le altre fonti del diritto, che trovano applicazione in situazioni eccezionali. Ovviamente hanno dei limiti, non possono essere adottate sempre. I limiti sono di carattere sostanziale, cioè comunque devono rispettare i precetti costituzionali e i principi generali dell'ordinamento. Attenzione, le ordinanze contingibili ed urgenti possono derogare anche a norme legislative e taluno ritiene anche a norme costituzionali. Hanno dei limiti temporali, cioè hanno valore e efficacia soltanto nel periodo dell'emergenza, cessata l'emergenza non producono effetti. Degli obblighi procedurali, l'obbligo di motivazione in primo luogo e direi di motivazione rafforzata. La presenza di un danno grave e l'indifferibilità ed urgenza di intervenire, se esiste la possibilità di usare lo strumento ordinario si deve attendere lo strumento ordinario e soprattutto la non esistenza di altri strumenti per poter intervenire. Se l'ordinamento ha già previsto altre misure non può essere utilizzata l'ordinanza contingibile ed urgente. La più famosa ordinanza contingibile ed urgente è quella del sindaco, disciplinata dall'articolo 54 del testo unico degli enti locali, su cui è intervenuta anche la Corte Costituzionale, riconoscendone valore soltanto limitatamente ai casi eccezionali. Diversa dall'ordinanza contingibile ed urgente sono gli atti necessitati. Gli atti necessitati sono atti tipici, nominativi, individuati dal legislatore, dove il legislatore prevede che in certi casi di emergenza si adotta uno specifico atto. Allora quella non è una contingibile ed urgente, quello è un pericolo per il quale l'ordinamento ha già previsto la misura, ad esempio, un provvedimento di occupazione d'urgenza. Quindi all'interno delle fonti del diritto abbiamo queste fonti molto particolari. A presto!